il mio saluto e gli stai spottando la bomba mia che si sta pulizionando è pulizionando questo stasera non è proprio serato forse se il ragazzo non fa pulizionare dovrebbe stare di genere ma invece stasera non è proprio il ragazzo ma credo che il ragazzo non è proprio il ragazzo cosa ha da fare è sì signora povero o poverino se non c'è senza torno a essere loro collunto con questo non è che vorrei fare qualche appellatino alla mia sposa alla mia pubblica no ma la mia condizione è scrostata è marginata da questa società di consumi capo mangi capire perché tutto quanto consuma è il nome e poi c'è stato male che il camionatore forse è in sala master e no ma c'è pure il fatto di smarrarmi pesire non è possibile perché comandisti che ci sta nel nostro paese capo fin un po' mi sono occupato di avere tre figli io mi sono occupato lo faccio lo faccio di nascostra sono cucito ma poi non potrei mai fare un altro vestire perché io sono l'erede di una grande tradizione teosante a me qua sono due cose mi ha lasciato la vasce e il camicione ecco tutte le cose ma ancora le fanno ma io non faccio come dicevo allora non si lavora perché lavora fatica la fatica fa male no? io volessi faticare la cosa per esempio farle l'indicato e invece sto stasera alla presenza del regista adesso Giuseppe Lucia con questa conferenza stando di preditivo perché hai tu la fuori diceva il maio di tale confondo ce la parla no? io sono la coscienza che rimonde io sono lo spettro che riflette l'evolismo e poi pensate ma forse sotto a che salato e sotto a chi sto papà subito c'è sta una cosa vera che la gioia che vorrebbe avere con il cinema ma non è meglio la politica cosa è andato io non è meglio la politica ma non è meglio la politica è soprattutto l'amore è soprattutto la sentimento è soprattutto tutto ma forse avemmo potuto qualcosa a cui ci si è accorta io abbiamo potuto la cera ma non è meglio la cosa faccio non è meglio la cosa faccio ma te non mi chiamate mi spalisco e mi tristezza ma adesso sulla maschera la risa è da la risa bravo grazie 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 grazie